Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Neanche il tempo di metabolizzare la notizia di cronaca che vede Nintendo contraporsi alla community di Super Smash Bros, che l'azienda giapponese si è subito ritrovata al centro di un'altra controversia di non poco conto. Questa volta la grande N avrebbe bloccato la produzione di alcuni accessori per Joy-Con pensati per onorare la memoria di etica, pro player americano venuto a mancare lo scorso anno e i cui profitti venivano interamente devoluti in beneficenza. Ovviamente un gesto del genere ha scatenato parecchia indignazione da parte delle community online, ma secondo me la situazione va studiata meglio, perché la verità è molto più complessa di come può apparire nell'immediato. Prima di vederci chiaro su questo ennesimo scivolone da parte di Nintendo, vi invito come al solito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Desmond Daniel Amofa, conosciuto online come Etica, era una delle figure più amate e controverse della community di Smash Bros, ma che divenne estremamente popolare anche per le sue reaction sui prodotti Nintendo, allargando notevolmente la sua notorietà su internet. Purtroppo il giovane, a causa di gravi disturbi psichici, si tolse la vita nel giugno del 2019, lasciando addolorati tantissimi suoi fan, che ancora oggi tengono vivo il ricordo della sua persona. Tra questi figura l'utente Captain Alex, che all'interno del suo negozio online sulla piattaforma Etsy, aveva iniziato a vendere delle shell dei Joy-Con personalizzate a tema etica, che riportavano sulla scocca il nome degli appartenenti alla sua community, ovvero Joy-Con Boys. La notizia, proprio di questi giorni, è che Nintendo qualche mese fa ha minacciato Captain Alex di prendere provvedimenti legali se avesse continuato a vendere i suoi prodotti. Da notare che la presa a disposizione di Nintendo non era riferita in particolare agli Ethicons, questo è il nome delle shell, ma a tutti quegli oggetti che avrebbero utilizzato materiale coperto da copyright. Joy-Con è infatti un marchio registrato da Nintendo e, purtroppo, quali che siano gli intenti, non può essere utilizzato da terze parti senza l'approvazione del proprietario. L'azienda di Kyoto non ha proibito la produzione di futuri modelli, semplicemente ha richiesto la rimozione dal mercato dei prodotti che riportavano determinati loghi e scritte. Capisco che questo atteggiamento possa far infuriare i fan e che a primo impatto tagliare le gambe ad un'iniziativa che solo nel 2019 ha permesso di donare in beneficenza circa 10.000 dollari non sia una scelta destinata a divenire popolare, ma il mercato funziona così e credo sia giusto che Nintendo rivendichi la proprietà sui suoi marchi registrati. Poi se ne potrà discutere se il termine Joy-Con Boys sia una parodia del nome originale e in quanto tale riutilizzabile sotto tutela del fair use, ma purtroppo iniziative del genere vanno studiate meglio già in fase di progettazione e la buona volontà del produttore non può sostituirsi alla legge. Soprattutto poi se ci si addentra in un territorio così spinoso, dove Nintendo ha dimostrato più e più volte tolleranza a zero. È irrealistico pensare di poter agire indisturbati senza incorrere in delle baghe legali. Oggigiorno è facile sparare contro Nintendo, che effettivamente non fa mai nulla per non passare dalla parte dei cattivi, ma ricordiamoci che si tratta di un'azienda gigantesca che agisce secondo determinate logiche di mercato, che molto spesso vanno a cozzare con la morale del singolo individuo. Questa volta però non siamo in una fase di stallo come quella vista con il The Big House e il problema della mod slippy. Qui è stato semplicemente richiesto di cambiare alcuni dettagli di un prodotto, che se aggiustati può tranquillamente tornare ad essere venduto al pubblico. Non c'è nessun attacco ad persona, ma nessuna volontà di infangare la memoria di un giovane ragazzo, né quella di mancare di rispetto a chi ha a cuore una determinata causa. Semplicemente le cose vanno fatte nel modo corretto, nel rispetto della legge, per quanto questa possa sembrare eccessivamente restrittiva. A mio avviso Captain Alex avrebbe dovuto pensare in anticipo ad uno scenario del genere e concepire su Etikons in modo da non infrangere nessun copyright. Allo stesso modo la community, per quanto demoralizzata, dovrebbe accettare il fatto che l'errore era la base del progetto e Nintendo non è cattiva o insensibile. Semplicemente è un'azienda e in quanto tale tutela il suo business. Quindi va bene il dispiacere, ma l'indignazione deve subito lasciare il posto alla volontà di superare un ostacolo evitabile e non trasformarsi in un facile attacco nei confronti di Nintendo. E voi poracci cosa ne pensate di tutta questa storia. Come al solito vi aspetto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito come al solito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per supportarmi con la creazione dei prossimi contenuti. Io sono il Poro Copy, Michele Wright, ciao!